Gentili telespettatori, buona giornata. Elena, che si fa chiamare Ellie Schlein, che si fa chiamare la capa del PD, la capa del PD verso il no alla candidatura alle europee. Attenzione che le candidature alle europee è qualcosa di finto, non è che se la Schlein, la Meloni o Salvini vincono alle europee e vanno a fare gli europarlamentari e lasciano l'Italia. No, la candidatura alle europee è una cosa di facciata, però serve per tirar su un po' di voti. Perché se tutti i presenti alle europee, se Meloni si presenta, Schlein si presenta, Salvini, Conte, attirano elettori. Quando l'elettore va a votare, in Italia per le europee, vede il nome dell'idolo politico, dell'allenatore della sua squadra, il triste allenatore della sua squadra. Schlein sarebbe orientata verso il no a questa candidatura, mentre la Meloni probabilmente, sicuramente sì, teme di prendere meno voti della Meloni. La Meloni all'europea potrebbe prendere una valanga di voti, milioni di voti, mentre la Schlein potrebbe prendere centinaia di migliaia di voti, ma non milioni. Sarebbe una sconfitta plateale, ciclopica. D'altronde, le due leader sono completamente diverse. La Meloni è un vero leader politico. La Schlein, ci continuiamo a chiedere che cosa ci faccia a capo del PD, come si è arrivata in politica. Non si capisce davvero come faccia a essere lì, davvero. Questo lo dico seriamente, senza scherzare. La Schlein non ha niente a che fare con la politica. Cioè, lei e la politica sono due cose distanti, anni luce. Eppure è lì, eppure è lì, e si fa chiamare la capa del PD. Sono i misteri degli arrampicamenti sociali. Ebbè, comunque, la segretaria PD deve ancora decidere se candidarsi alle elezioni europee, ma è orientata per il no, perché teme il confronto costante con Giorgia Meloni, che poi, diciamo, il paragone, il confronto non c'è. Il confronto, se voi mettete Meloni e Schlein in uno studio televisivo a fare un confronto, è come la professoressa Meloni è l'allieva che non studia Schlein. Cioè, la Meloni vi parlerebbe di cose concrete, serie, studiate, l'altra risponderebbe a caso, tipo un Santori, no? Ecco. Quindi, un confronto tra le due sarebbe divertentissimo, eh. Io spero che fra qualche tempo la Meloni lo accetti, perché sarebbe proprio, verrebbero fuori tipo 50 video, no? Io starei lì ad analizzare parola per parola, come faccio sempre, sarebbe divertentissimo. Però, e speriamo che un giorno arrivi comunque. Mancano sei mesi alle prossime elezioni europee. E dalle parti del PD sono davanti a un paradosso politico. Lei, Elena, che ogni due per tre, ogni tre per due, ogni due per due, ogni tre per tre, accusa la Meloni, il governo, è pericoloso, è grave, tutte le cose che gli passano per la testa, sarebbe orientata a un no per una possibile candidatura. Ecco, da una parte ti parla le destre, pericolo, 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 ma lei non affronta questo pericolo di Giorgia Meloni. E così. Prima c'è stato un invito ad Atreio a partecipare, quando Conte, alla fine, l'invito è stato ritirato, per lei è stato mantenuto, perché trovarti la Schlein ad Atreio a parlare non ha prezzo, cioè sarebbe stata una roba divertentissima, avrebbe fatto delle figure terrificanti, peggio che da Floris o da Formigli, sarebbe stato un trionfo negativo per la Schlein, purtroppo non si è presentata. Su questo ha fatto bene, ha schivato una figuraccia terrificante. E così ha declinato. Adesso dovrebbe declinare le elezioni europee. Lei che parla di confrontare la Meloni, confrontiamoci né a casa mia né a casa tua, ci confrontiamo lì da tizio Caio Sempronio. In realtà è solo un modo di dire, perché ad Atreio non si è presentata, all'europee non si presenterà, schiva prontamente Giorgia Meloni, perché praticamente non c'è storia. è la paura del confronto, che è una costante della capa del PD. Sono elezioni quelle europee, dove in Italia si voterà come se fossero le elezioni politiche nazionali italiane. Saremmo chiamati tutti al voto, voteremo non i partiti europei, ma voteremo i partiti italiani da mandare in Europa, e quindi sarà come, dopo un anno e mezzo, ripetere le elezioni politiche del 2022, senza che però ci sia un effetto in Italia, ma ci sarà un effetto in Europa. Beh, ci sarà poca partecipazione in Italia, perché ormai l'andazzo è questo. Secondo un retroscena della stampa, i timori a casa a Dem sarebbero due. Il primo è quello di prendere meno voti dalla Meloni, che questo è scontato, e quindi si indebolirebbe, sia di fronte alla Premier, sia rispetto al suo vero avversario interno, Giuseppe Conte, anche lui che non vuole candidarsi proprio per la stessa identica ragione, per non prendere meno voti dalla Meloni e per non prendere meno voti dalla Schlein. Quindi Conte e Schlein sospendono il giudizio dell'elettorato proprio per timore che il giudizio sia terrificante. La seconda paura invece ha a che fare con le dinamiche interne del Partito Democratico. Se Schlein dovesse essere la capolista in tutte le circoscrizioni, questo irragionamento potrebbe ottenere la preferenza togliendola però ad altre donne candidate. Questioni interne a parte che da sempre logorano il partito che si definisce democratico, il vero nodo da sbrogliare è il primo dei due. Se da una parte la paura della paladina Dem è giustificata sul piano numerico, a meno chissà quale grandi sorprese, a livello politico il suo orientamento verso il no mostra il vero volto del partito democratico. Un partito che grida contro Meloni ma quando poi c'è un confronto elettorale dove c'è il giudizio degli elettori a quel punto si scappa a gambe levate via di corsa, no? Gridano, gridano, adesso ci sono le elezioni, via! E spariscono. Arrivederci a tutti e grazie.